Ho cercato, anche concedendo molto al Partito Democratico, cioè il fatto che potessero entrare ma che non potessero bombardare tutti i giorni quello che avevamo firmato e che non si firmasse un patto contrario. Letta sapeva esattamente quello che sarebbe accaduto. Enrico, non raccontare balle, sapevi esattamente quello che sarebbe accaduto. L'hai saputo da sempre, te l'ho spiegato, ti ho incontrato giovedì e te l'ho detto e te l'ho ripetuto costantemente. Allora io vi dico una cosa, io mi sono un po' stancato.